L'attesa degli esiti dei primi interrogatori di garanzia e quindi di una vera e propria sfilata davanti al GIP per i 22 arrestati martedì mattina, l'inchiesta Virus Mercadè ha già prodotto in maniera trasversale le prime conseguenze di natura amministrativa. L'arresto, tra gli altri, di Giovanni Borromeo, l'artista incaricato di aprire materialmente le buste con le offerte, senza lasciare traccia, ha spinto la provincia di Brindisi a convocare un'assemblea ordinaria per la verifica funzionale degli organi amministrativi della Santa Teresa, società di cui Borromeo è consigliere d'amministrazione. Una figura chiave è quella del faccendiere, ufficialmente slegato dall'ASL dove non ricopriva in carico qualcuno, eppure braccio destro del capo dell'UTC, Vincenzo Corso. Lo stretto rapporto tra i due è ben descritto nell'ordinanza di custodia cautelare, in alcune intercettazioni che precedono l'apertura di alcune buste per un bando d'appalto inerente alla ristrutturazione dell'ospedale di Ostuni, Borromeo spiega all'ingegnere come aprire e richiudere le buste. Si parla di carta, di colla, di sostanze, di un vero e proprio modus operandi degno di un falsario. Sì, spiega Borromeo, ha corso mentre maneggia una busta, rimane umido e quindi vuole rimanere, deve restare all'aria. Così, hai capito? Un vero artista, quindi, che nella serata di mercoledì è stato sospeso con effetto immediato dal Partito Democratico, secondo quanto previsto, scrivono i coordinatori Maurizio Bruno e Antonio Elefante, dallo statuto destinato a lasciare il suo scranno di consigliere comunale, invece Antonio Ferrari, geometra dell'area tecnica dell'ASL e considerato dagli inquirenti un'altra figura predominante nel sistema corso. Ferrari, secondo la procura, avrebbe avuto un doppio ruolo, quello di corruttore, chiamato a manomettere gli appalti per favorire aziende amiche, e quello di corrotto, visto che alcune aziende sarebbero poi riconducibili allo stesso geometra, che quindi avrebbe tratto ingenti profitti. Ingenti, ma non quanto quelli ottenuti da corso, che resta, dopo un'attenta lettura dell'ordinanza, il principale indagato. Per lui, in cambio degli appalti promessi, non solo denaro, ma anche gioielli e viaggi nell'Europa dell'Est, per altri affari e per altri, si vocifera, filoni di un'inchiesta che sembra davvero non avere fine. Grazie mille.